Per affrontare la montagna, per chi fa trekking, ma anche per chi fa semplici passeggiate, ci sono delle regole da osservare. Una di queste è chiaramente fare il percorso, o che sia trekking o che siano passeggiate, adeguato alla propria forma fisica e alle proprie condizioni di salute. Un'altra regola è di ricordarsi che in montagna ci sono cambiamenti di clima improvvisi, quindi possiamo partire con giornate di sole e a metà giornata esserci dei temporali improvvisi, con abbassamento di temperature e diminuzione della visibilità. Non esporsi ai fulmini la prima cosa, ricordiamo che un fulmine colpisce la cosa più alta che c'è in zona, quindi se siamo un mezzo a un prato, chiaramente è bene spostarsi ai bordi del prato, magari abbassarsi in modo da non essere un punto di riferimento. Se siamo all'interno di un bosco, è vero che bisogna stare lontano dalle piante, ma però siamo all'interno di un bosco, quindi cercare degli avvallamenti, degli anfratti nel terreno, delle deflessioni che ci mettano in condizione di non essere il punto più alto in quella circostanza. Se troviamo delle grotte dove proteggersi o altro, è bene di non stare sulla porta della grotta, perché lì in questa posizione potremmo creare una specie di arco fotovoltaico, quindi è bene spostarsi leggermente all'interno dell'anfratto stesso, che sia una grotta o che sia un rifugio fatto di altro genere. Gli interventi più frequenti per questa tipologia del 118 sono la persona che si ferisce per un abbigliamento non adeguato, quindi scarpette che non sono adatte alla montagna, e poi anche persone che si perdono nei sentieri. Infatti buona regola prima di partire per un'escursione o per una passeggiata è quella di portarsi innanzitutto sempre al seguito una mappa dei sentieri, studiare il percorso prima con il numero del sentiero. In caso di necessità, perché non è detto che se anche mettiamo in atto tutte le dovute precauzioni non ci siano degli infortuni, degli incidenti, è utile avere nel proprio smartphone l'applicazione per richiedere soccorso del 112. L'applicazione è il 112, che è il numero unico per l'emergenza. Se la chiamata viene fatta tramite questa applicazione, all'operatore che riceve la chiamata arriveranno le coordinate GPS di dove ci troviamo. E questo per noi è un grosso, non solo per noi, ma in questo caso diventa una gestione di più enti, quindi noi, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, riusciremo a raggiungere meglio l'infortunato.